e come sapete con con il web buongiorno a tutti ben arrivati con il webinar di oggi si apre questo ciclo di eventi dedicati all'accessibilità dei siti web in particolare un tema che quello dell'accessibilità dei contenuti per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e servizi e fornire informazioni fruibili senza discriminazione anche nei confronti delle persone con disabilità che necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari questo ciclo di webinar si inserisce nell'abito di un'attività di un progetto informazione informazione per la transizione digitale Italia login che Forma e CPA realizza per conto di Agit l'obiettivo del percorso è far conoscere partecipanti quali sono i principali errori che si rischia di commettere nel progettare sviluppare mantenere contenuti digitali sia ad essi documenti o contenuti pubblicati sulle pagine del sito web. Abbiamo in programma tre webinar che si svolgeranno sempre dalle 12 alle 13 e 30 il primo è quello di oggi mercoledì 23 febbraio il prossimo incontro sarà il mercoledì 16 marzo e poi l'ultimo mercoledì 13 aprile quindi un appuntamento ogni 4 settimane sempre di mercoledì e sempre nello stesso orario. Nei prossimi webinar parleremo quindi il webinar di oggi sapete dedicato agli errori comuni all'importanza delle informazioni semantiche nei successivi webinar parleremo di tecnologie assistive e nell'ultimo degli errori comuni relativa ai contenuti non tessuali e il contrasto minimo necessario per rendere le informazioni ehm per rendere le informazioni accessibili a chi a tutti. Ehm il programma eh lo conoscete abbiamo due relatori eh webinar di oggi sono Claudio Cellechin e Fabrizio Caccavello eh di Agid e eh il webinar eh di oggi ha l'obiettivo di eh illustrare eh gli errori di accessibilità eh molti degli come molti degli errori di accessibilità sono referenziabili al criterio di successo 1.3.1 delle VCAG 2.1 come ci illustreranno i relatori le VCAG sono le raccomandazioni internazionali sull'accessibilità dei siti web che sono recepite dalla normativa europea ed italiana e vediamo eh quindi come questi eh le queste indicazioni ci permettono di rendere contenuti accessibili a tutti. Allora io non voglio rubare ulteriore tempo ai relatori eh al momento siete ottocento quindi un numero veramente alto ci fa molto piacere del successo che ha incontrato di interesse che ha incontrato questo ciclo di webinar ehm vi ricordo che potete utilizzare la chat per rivolgere domande ehm in qualsiasi momento ai nostri relatori e le domande verranno raccolte non risponderemo subito perché questo spesso rende poi un po' ehm rischia di distogliere un po' l'attenzione del relatore sull'intervento abbiamo preferito dedicare l'ultima parte del webinar proprio alle risposte alle domande che abbiamo raccolto durante gli interventi quindi voi eh utilizzate la chat per fare domande e poi al termine i due relatori proveranno a rispondervi se dovessero eh se non dovessero riuscire a rispondere a tutte le domande comunque le raccogliamo e poi magari proveremo a rispondere o ehm rispondendo per via scritta e pubblicando poi le risposte su eventi PA oppure in apertura del prossimo webinar che come vi dicevo si svolgerà fra quattro settimane. Va bene allora eh io non rubo ulteriore tempo invito Claudio Cellechini a attivare microfono e webcam e gli lascio la parola per il suo intervento. Prego Claudio. Buongiorno buongiorno a tutti siete 828 in questo preciso momento eh molto eh contento di questa di questa numerosa di questa numerosa partecipazione eh perché perché indica anche una crescente attenzione sul tema e che che è molto importante anche per quello che eh diciamo sta avvenendo a livello eh a livello europeo come poi andrò eh brevemente ad accennare durante la eh la mia presentazione. Allora eh come accennava il dottor Gianluca finito eh il il questo webinar eh questi cicli questo ciclo di tre webinar abbiamo pensato di dedicarli alla agli errori più frequenti che si sono registrati che abbiamo registrato nell'attività di monitoraggio che abbiamo condotto come Agide lo scorso eh in lo scorso anno e nel duemila eh nel duemilaventi e ventuno. Abbiamo fatto un ampio monitoraggio come richiesto dalla direttiva europea e abbiamo individuato una serie di errori. Ehm prima però di addentrarci sulla sulla questione eh tecnica o insomma su sui dettagli puntuali ehm ci ci terrei anche soprattutto per quelli che si sono come dire si affacciano sul tema della dell'accessibilità eh per la per la prima volta e ma anche quelli che hanno già partecipato come da sondaggio si evi si evinceva eh hanno già partecipato ad altri corsi sono magari eh esperti eccetera eh vorrei comunque ribadire a a costo di essere di costo di essere come dire forse ripetitivo ma ribadire alcuni concetti sul tema dell'accessibilità perché da da quando nel duemilaquattro si è eh è entrata in vigore la legge eh appunto del quattro duemilaquattro a oggi moltissime cose sono cambiate in termini di ehm di 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 contesto e di modalità operativa dell'utente con i contenuti digitali. È cambiato vorrei dire tutto eh è cambiato il modo di progettare i i contenuti digitali è cambiato il modo di fruire di questi contenuti digitali e quindi cambia anche ehm il il l'approccio alla al valore all'approccio alla al tema dell'accessibilità che non è più soltanto relegato a determinati ambiti ehm come possiamo dire ehm operativi ma che coinvolge tutta la nostra comunicazione in modo eh fondativo vorrei dire insomma nel loro nel suo complesso ehm allora dicevamo i i principali i principali errori del ehm e gli errori comuni però andiamo un attimo a vedere prima un facciamo come insentitemi di fare un piccolo salto indietro ehm sappiamo che le forme di di disabilità di possono essere di vario tipo no? Abbiamo sempre visto le forme di disabilità come ehm la persona che non ha ehm la persona non vedente, la persona che ha la disabilità a livello uditivo ehm la persona che eh con disabilità motorie o con disabilità cognitiva bene ehm ci terrei come dire a a a far passare un concetto che eh sinché si considera la 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 disabilità ehm come qualche come un problema eh una questione relegata che che diciamo legata a una mh ristretta comunque cerchia di persone o un ambito abbastanza ristretto per quanto siano queste persone con disabilità ehm si fa un errore di 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 approccio voglio dire non dobbiamo considerare queste disabilità come permanenti soltanto come permanenti in realtà eh come mi capita spesso di dire in altri insomma anche in altre circostanze e in altri webinar in altre situazioni di comunicazione dobbiamo pensare che questo eh che la disabilità riguarda tutti noi in momenti diversi e ovviamente anche con eh forme diverse eh di 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 non accesso alle informazioni ad esempio eh ad esempio una una forma eh classica ecco questo volevo dire che il il quello che è cambiato vi dicevo prima dal 2004 al 2000 al 2000 eh a oggi eh vi presento come cioè immagino che sappiate evidentemente eh adesso non non nel numero preciso ma insomma tutti noi stiamo utilizzando i contenuti digitali tramite uno smartphone eh questo cambia moltissimo il modo di appunto di progettare i contenuti e di fruire dei contenuti e ormai eh impone quindi al tema dell'accessibilità questa modalità di fruizione dei contenuti eh impone alla alla mette ancora più risalto il valore dell'accessibilità dei contenuti le regole che determinano l'accessibilità i punti di controllo che poi dopo andiamo a dettagliare quindi insomma l'essere accessibili eh consente di fruire di questi contenuti anche eh in un contesto ripeto operativo e di fruizione completamente diversi rispetto a quando è nata la legge nel 2004 eh questo vuol dire che ad esempio la persona con non bisogna più considerare soltanto la persona con disabilità visiva perché è non vedente ma semplicemente anche perché io sto eh in una giornata assolata e sto utilizzando il cellulare e devo poter chiaramente eh distinguere il testo dallo sfondo della della del sito web e quindi il contrasto tra testo e sfondo eh deve essere deve avere un certo deve essere molto elevato eh perché altrimenti se faccio un testo grigio chiaro o su sfondo bianco che magari può avere anche molte eh molte apparentemente essere molto accattivante da un punto di vista estetico però poi dopo non si vede più non si vede più niente ma questo è importante fare questo questo passaggio diciamo questa ampliamento della eh della come possiamo dire della di chi viene coinvolto nei problemi di accessibilità eh se non vengono rispettati questi criteri non è soltanto la persona non vedente ma è anche chi fruisce di questi contenuti in contesti che sono totalmente cambiati rispetto a qualche anno fa qualche anno fa idem per quanto riguarda l'esperienza uditiva se io sono in un ambiente dove non posso eh sono in una biblioteca dove non posso eh ascoltare o o o che ne so in treno eh anche se non sempre avviene però diciamo in una biblioteca dove non posso ascoltare o in un ambiente silenzioso non posso ascoltare un video eh eh a volume alto ma vedo la persona che sta parlando bene se quella quel video mi riporta dei sottotitoli eh il ehm questo non è è un vantaggio anche per una persona che in un diverso contesto è una persona che ci sente benissimo ma in quel momento non può eh ascoltare eh il video hm voi mi direte va bene ma si mette le cuffie va bene però insomma eh ci capiamo nel senso di di qual è l'utilità dei sottotitoli insomma nella nella della sottotitolazione nei nei video in caso in cui io sia in determinate situazioni eh lo stesso dicasi per la disabilità motoria non è necessario eh cioè non è soltanto la persona che è ehm costretta per una per una disabilità permanente e importante a sulla ehm sulla carrozzella eh ma può essere una una disabilità temporanea ma che investe moltissime un un pa come dire un 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 ventaglio di persone molto più grande molto più ampio perché posso aver posso essermi rotto un braccio posso essere sull'autobus posso e quindi ho una necessità di dover fruire di quel contenuto digitale ehm in modo completo soltanto eh utilizzando il pollice per se sto sul mobile ehm altra e ultima questione è ad esempio la disabilità cognitiva molto spessa anche in questo caso eh sì come dice qualcuno Silvio Marinelli solve for one extend to many yes eh o meglio si può anche dire ehm diciamo progettato per le persone con disabilità eh importanti permanenti ma utili per tutti quindi no eh la disabilità cognitiva ehm basti pensare alle persone con una anziane in Italia ci sono tantissime ci sono ehm non mi vorrei sbagliare ma stiamo nell'ordine di eh vabbè decine di milioni di persone eh mi sembra che siano sui 20 milioni di persone over 60 e forse anche di più ehm che non hanno dimestichezza con con ehm strumenti estremamente ehm o poco usabili insomma poco usabili e oppure potrei anche essere un cittadino straniero che ha bisogno di un traduttore ehm per capire i contenuti di un sito web ma se quei contenuti sono scritti in formato immagine non li posso eh non li posso tradurre insomma mh è importante ampliare molto di molto il concetto di eh di accessibilità dei contenuti perché coinvolge tutti quanti perché coinvolge un un una una platea di persone estremamente più vasta di quella che si è sinora eh eh ritenuto essere appunto mh mh coinvolte insomma eh conviene essere accessibili non solo è ne è obbligatorio per cui eh dobbiamo attenerci a questo eh adempimento ma conviene perché io a parte che do un'immagine più moderna e innovativa della mia amministrazione posso diffondere in modo a capillare il mio messaggio il mio contenuto e in un ambito anche che è multi channel cioè posso andare sui vari social posso far sì che la mia che la quella stessa informazione possa essere ripresa eh che che lancio online che mh ed è adeguatamente formattata eh semanticamente eh strutturata come vedremo poi anche più nel successivo eh intervento ehm possa essere ripresa eh su più eh più canali di comunicazione e possa essere adatta a molteplici device ehm un esempio ad esempio che posso anche magari evitare che eh a causa della inaccessibilità dei contenuti eh le persone continuino a chiamare il centralino per avere eh per avere un aiuto eh e quindi porre eh diciamo fine alla all'utilità della delle informazioni o del servizio online perché se poi io per utilizzare quel servizio online devo chiamare ehm l'URP non ha non ha molto senso insomma no? Ehm va bene quindi eh ecco un 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 brevissimo accenno ehm perché dal duemilaventicinque eh il tema dell'accessibilità verrà esteso anche eh in base al al ricevimento dell'accessibility act la direttiva europea eh che entrerà in vigore nel duemilaventicinque e si estenderà a molte aziende private che in questo momento eh erogano eh informazioni e servizi anche di e-commerce sui siti web che erogano contenuti eh testuali sui dispositivi di lettura di lettura elettronici gli reader e su eh sulle app eh questo per dirvi ehm è vero non qui non stiamo probabilmente la maggior parte delle persone che partecipano e vedo che sono 906 in questo momento eh non sono aziende private probabilmente però questo per dirvi che il tema è sempre più eh caldo è sempre più importante ed è proprio per mh ed è proprio per quello che vi dicevo prima cioè il tema della dell'ampliamento della eh della della platea di persone che che possono fruire della che fruiscono dei vantaggi dell'accessibilità è proprio per questo che eh diciamo eh è entrata è entrata è stata definita questa questa direttiva europea sulla sulla Accessibility Act Act che entrerà in vigore nel duemilaventicinque ehm benissimo veniamo eh detto questo mh veniamo alla alla parte invece relativa proprio al lavoro che è svolto Agile eh abbiamo costruito insomma costituito un gruppo di tecnici eh esperti sulla per il monitoraggio della dei siti web e delle app in base a quanto dettato dalla direttiva europea 21.02 che impone a tutti gli stati membri di eh fare un'attività di monitoraggio periodico su eh su siti web applicazioni e applicazioni mobili proprio perché la direttiva europea vuole avere con questo ehm diciamo eh tra i vari obiettivi della direttiva europea vi è anche quello di ehm come posso dire ehm di ehm ehm cercare di capire innanzitutto di fare una fotografia di quello che è lo stato attuale eh dell'accessibilità del livello di accessibilità a mh a livello europeo insomma dei siti web in quanto in quanto non tutti gli stati membri hanno lo stessa la stessa normativa su 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 l'accessibilità ai siti dei siti delle app ci sono stati ci sono degli stati membri più eh avanti eh tra cui l'Italia e altri stati membri che invece non hanno o non hanno una normativa così eh stringente o così avanzata. Ehm Agide appunto è l'organismo che per l'Italia è ha avuto l'incarico di eh di realizzare questi questo monitoraggio su mille duecentonovantasette siti web e su ventidue app mobile tra il venti tra gennaio venti e il dicembre del ventuno. Ehm come abbiamo definito quel numero di siti web? Eh innanzitutto il numero va bene è definito dalla direttiva perché c'è una proporzione fra il numero di siti web e il numero di abitanti eh però abbiamo poi siamo andati poi a definire la distribuzione territoriale, gli ambiti tematici eh abbiamo abbiamo preso in considerazione in modo particolare comuni e scuole e poi dei siti individuati insieme alle federazioni rappresentative delle persone con disabilità. Abbiamo cercato sostanzialmente di avere una un panorama il più ehm il più eh come possiamo dire eh esteso possibile eh in termini di tipologie di amministrazione in termini di territorialità e in modo tale che eh insomma fosse il più aderente possibile alla situazione attuale dei dei siti web. Abbiamo quindi individuato eh i siti relative a queste aree tematiche quindi salute, trasporti e quello che leggete sulla slide. Eh abbiamo preso in considerazione diverse tipologie di eh di amministrazioni e di distribuzione e di distribuzione geografica. Eh abbiamo preso in considerazione i siti web sia statali, regionali e delle amministrazioni locali. Eh ovviamente dovevano aver dichiarato all'interno di indice PA i loro domini e i sottodomini e questi domini dovevano essere eh con il punto IT. Quindi noi abbiamo preso come punto di riferimento i siti indicati all'interno di indice PA eh che sono come sappiamo per la maggior parte siti istituzionali però almeno è un indice ehm appunto eh completo di quelle che sono la eh di quelle che sono le amministrazioni presenti eh in Italia non è certamente ma perché non 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 è l'obiettivo della dell'indice PA quello di avere un un elenco completo dei siti web delle pubbliche amministrazioni che è tutta un'altra questione come sappiamo. Ehm allora come abbiamo appunto abbiamo detto abbiamo siamo partiti dalla definizione siamo partiti da indice PA abbiamo eh abbiamo eh costituito abbiamo visto siamo partiti da un campione di ventimila di ventimila enti e abbiamo preso in considerazione 146 siti statali, 123 siti eh a livello regionale, 977 a livello locale, 51 siti di di organismi di diritto pubblico. Ehm con una distribuzione che andava da eh istruzione, ricreazione e cultura, protezione sociale, salute, occupazione e fiscalità, queste messe in ordine di eh di frequenza. Ehm tutela ambientale, trasporti, ordine pubblico e sicurezza, abitazioni e infrastrutture collettive. Ehm questo più o meno insomma c'è più o meno il numero di siti web che abbiamo eh preso in considerazione per ciascuna ehm ciascun ambito tematico. Eh alla fine del duemila ventuno cioè a dicembre di quest'anno, a dicembre del a dicembre scorso abbiamo inviato il tutto eh abbiamo inviato una relazione alla Commissione Europea con tutti i dati che abbiamo misurato, gli errori più frequenti eh insomma una serie di 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 informazioni che trovate anche sul sito Agid e che abbiamo pubblicato. Ovviamente così come l'abbiamo fatto noi l'ha fatto eh ciascuno a stato membro ehm per per di questo invio alla Commissione Europea. Questi dati poi verranno eh stanno 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 sono in fase di elaborazione, di valutazione e e verranno poi mh verrà poi insomma data una una informazione dalla Commissione Europea sulla risultato complessivo. Ehm abbiamo monitorato ehm con due tipologie di ehm con due metodologie diverse come richiesto dalla dalla direttiva ehm 1297 siti con un monitoraggio semplificato. 75 siti compresi all'interno dei 1297 con un monitoraggio eh approfondito. ehm quindi che adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta. Il monitoraggio semplificato ha sostanzialmente esaminato ehm novemila pagine grosso modo quasi diecimila ehm 1500 pdf e ha riscontrato mh novecentomila circa novecentomila eh ricorrenze cioè novecentomila errori complessivamente. ehm il monitoraggio semplificato ha preso in considerazione questi elementi che eh vedete sulla sulla slide, quindi la home page, la mappa del sito eh la mappa dedicata, la pagina dedicata all'accessibilità eh una pagina con i risultati prodotti dalla funzionalità di ricerca, un documento scaticabile pdf e pubblicità legale, amministrazione trasparente. Il ehm e poi una scelta casuale di altre di altre pagine eh come richiesto dalla Commissione Europea insomma. E poi il monitoraggio approfondito invece abbiamo esaminato ehm sempre appunto un numero di un numero molto inferiore di siti web perché il monitoraggio era molto più ehm appunto eh complesso da realizzarsi e come ci richiedeva anche la direttiva europea. Quindi abbiamo esaminati 216 pdf, 1100 pagine e abbiamo riscontrato millesecento, quasi 1700 errori. Per il monitoraggio approfondito abbiamo preso in considerazione la home page eh la 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 pagina di accesso ai ai servizi, la mappa del sito, la mappa dei contatti, eh la pagina della guida e le pagine contenenti le informazioni eh legali. Ehm abbiamo verificato che ci fosse la dichiarazione di accessibilità e che abbiamo esaminato un documento scaricabile eccetera. Adesso io non andrò troppissimo nel dettaglio perché non vorrei troppo levare ehm anche il insomma eh lo spazio successivo al collega eh che che affronterà uno degli argomenti. Comunque eh andrò rapidamente. Il monitoraggio approfondito è riguardato anche 22 app eh e abbiamo utilizzato vari strumenti per le verifiche tra cui eh sostanzialmente strumenti gratuiti eh che sono eh rilevabili che sono ehm disponibili online eh o installabili sui browser eh oppure screen reader e eh o strumenti che mh che sono all'interno dei dei sistemi operativi e che forniscono qualche forma di eh di supporto alla 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 verifica dell'accessibilità. Allora l'analisi qualitativa è stata fatta eh in base alla alla verifica della conformità alle prescrizioni individuate dalla dalla 301549 versione 212 e di seguito sono esposti tutti i risultati che noi abbiamo rilevato. Allora eh il monitoraggio più semplificato per il quanto riguarda il monitoraggio semplificato ehm che non ha preso in considerazione perché in quanto in quanto semplificato non ha preso in considerazione tutti i punti di controllo eh dell'accessibilità ma ehm una buona parte perché il sistema è perché si è fatto mediante i sistemi eh simi automatici hanno evidenziato eh questi questi errori eh cioè informazione e correlazione, focus visibile, contrasto, scopo del collegamento, nome, ruolo, nome, ruolo e valore. Bene, questo eh questa questa ciclo di webinar a cui noi eh che abbiamo deciso di 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 programmare sono relativi proprio a questi primi cinque errori. ehm più tardi appunto fra poco il collega parlerà della del primo punto. Gli altri due webinar parleranno del focus visibile, del contrasto minimo e l'ultimo webinar dello scopo del collegamento, nome, ruolo e valore. Il poi ci sono anche altri eh altri errori eh ovviamente che abbiamo rilevato. un classico è quello del contenuto non testuale che eh con immagini senza eh senza testo alternativo oppure un utilizzo del colore eh come l'esempio che vi facevo prima cioè eh un utilizzo del colore dove abbiamo eh un testo con eh che veicola delle informazioni eh 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 utilizzato solo come ad esempio eh insomma come utilizzo di 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 per veicolare delle informazioni senza eh soltanto tramite il colore ehm poi abbiamo fatto anche qui agli altri gli altri per quanto riguarda i siti web lo scopo del collegamento sempre nel monitoraggio approfondito abbiamo contenuti non testuali, contrasto minimo, etichette e o istruzioni. io ho qui nella presentazione le ho messi tutti in modo tale che poi possono essere ehm insomma eh facilmente eh leggibili e insomma fruibili da tutti quanti quelli che hanno partecipato e che che potranno scaricarli dal dal sito anche del Formez. ehm analisi sintattica, focus visibile, utilizzo del colore e questo per quanto riguarda i siti web. Per quanto riguarda i documenti non web ad esempio i PDF eh anche qui abbiamo eh problemi con la titolazione della pagina eh immagini presenti all'interno della della del testo che non sono stati correttamente eh forniti di testo alternativo eh 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 titolazioni messe utilizzando sistemi che non eh che non sono consone alla eh alla corretta modalità di eh di eh di formattare semanticamente i contenuti. cosa che di cui appunto parlerà poi eh il collega eh Fabrizio Caccamello. e per quanto riguarda appunto i documenti non web eh insomma vedete che eh alla fin fine ecco quello che emerge eh questi sono invece gli errori per quanto riguarda le applicazioni mobili ehm anche qui vedete che il contenuto non testuale ehm la possibilità di dell'orientamento insomma sono anche errori abbastanza eh semplici che però non vengono eh poi gestiti. adeguatamente eh scorro velocemente ehm le altre slide per dirvi soltanto che sostanzialmente ehm prima di prima dell'ultima che eh molto spesso questi errori ehm è vero possono essere determinati dal sistema dal content management system che eh che gestisce appunto i contenuti. ma eh molto spesso e quindi la la risoluzione di questi errori può essere eh può voler dire coinvolgere uno sviluppatore, un fornitore che magari quel fornitore non c'è più perché il contratto è finito, oddio come faccio, adesso non so, eccetera. ma invece molto spesso il problema è relativo al al documento che viene pubblicato e quindi il documento stiamo parlando di qualche cosa che è interamente creato dall'amministrazione e e oppure un errore editoriale per cui io eh nel momento in cui pubblico un contenuto eh non non eh non ho seguito alcune regole molto semplici che possono essere risolte con un adeguato eh con un corretto ehm insomma facendo attenzione a come si pubblica un link, a come si crea eh un contenuto ehm un'immagine, a come si pubblica un'immagine online eh e sono risolvibili voglio dire soltanto e già utilizzando le competenze del redattore web, ok? non c'è bisogno di andare dal fornitore per avere eh di ricorrere al fornitore per risolvere. Chiudo facendo un eh breve reminder sulla dichiarazione di accessibilità che deve essere eh pubblicata entro il ventitré settembre eh qui mi sa che è saltata una slide perché volevo dirvi che anche entro il trentuno eh marzo va pubblicata ehm la 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 vanno pubblicati gli obiettivi di accessibilità eh da quest'anno gli obiettivi di accessibilità sono eh fruibili, sono accessibili tramite la stessa applicazione, cioè tramite il il l'indirizzo form.agid.co.it da quello si accede sia per compilare gli obiettivi di accessibilità che vanno che devono essere fatti il trentuno marzo sia eh la dichiarazione di accessibilità che deve essere obbligatoriamente fatta tramite il form messo a disposizione da Agid entro il ventitré settembre. Detto questo eh vi ringrazio molto per l'attenzione e e lascio la parola al collega Fabrizio Caccavello. Sì grazie Claudio. Ok perfetto hai gestito direttamente il passaggio di parola quindi a questo punto prego Fabrizio aspetto di sentirti. Sì. Perfetto ci sono molte domande solo una comunicazione partecipante ci sono molte domande le abbiamo raccolte tutte. come vi dicevo all'inizio del webinar abbiamo riservato una sessione proprio di risposte al termine dei due interventi. Nel frattempo per dare giusto un po' di di ansia a Fabrizio abbiamo raggiunto anche noi 150 partecipanti giusto così per prego Fabrizio. ma l'ansia l'ansia online diciamo è limitata perché comunque eh non si ha la platea diciamo così a vista non è un problema. Comunque allora giustamente come ricordava eh Claudio eh sulla base delle dell'attività che ha fatto che ha svolto Agid sul monitoraggio dei siti internet abbiamo deciso di dedicare questa serie di slot formativi proprio al eh numero di oppure alla diciamo così incidenza delle delle problematiche di accessibilità all'interno della pubblica dei siti della pubblica amministrazione. Quindi raccogliendo un po' tutti quanti quelli che erano state le maggiori criticità abbiamo deciso di fare delle verticalizzazioni eh su alcuni punti in particolare cioè su quelli più eh coinvolti all'interno delle problematiche di accessibilità. Questo perché abbiamo pensato che poteva essere un modo per eh eh fornire eh fornire un supporto reale nella correzione delle cose più importanti ma vorrei precisare che l'importanza di accessibilità no non è dovuta alla numerosità o dalla gravità. Non esiste un concetto di gravità. Esiste il fatto che ci sono delle cose ricorrenti che possono essere risolte ma per le singole persone chiaramente ogni problematica può essere bloccante perché al singolo utente non importa se eh ci sono eh centomila errori non eh bloccanti per le sue eh capacità eh mentre invece è molto è importante sapere che non c'è solamente quello che mi impedisce di fare quello che devo fare quindi ecco questo è un po' l'aspetto diciamo così generale delle dell'accessibilità. Quindi noi da cosa partiamo? Partiamo dal documento principe cioè dalle VCAG 2.1 ossia dal documento tecnico che è allegato praticamente che è coinvolto in tutto il processo normativo eh che ci riguarda e anche quindi della nostra legge nazionale. Abbiamo detto il principio il criterio di successo più violato è il il criterio 1.3.1 ossia quello che si chiama che viene definito informazioni e correlazione e su questo criterio di successo eh sono eh diciamo cadute le eh più eh numerose criticità che abbiamo riscontrato. è anche un po' un po' un po' normale perché questo criterio di successo è quello che fra i colleghi esperti di accessibilità è definito un po' come un catch all nel senso che tutto può accadere all'interno di questo criterio di successo perché giustamente eh coinvolge come vedremo oggi molti aspetti che ci riguardano e non a caso il criterio di successo l'1.3.1 è quello dedicato è il primo della linea guida adattabile questo perché dobbiamo eh eh prima di addentrarci nella specificità della specificità di al di almeno un paio di concetti generali cioè i contenuti che noi mettiamo in un in un dispositivo in un servizio digitale non sono immutabili e questo molto spesso eh è un po' difficile da far passare perché ci concentriamo sulla cosiddetta impaginazione e ci dimentichiamo invece che quella impaginazione qualche volta è quella che ci trae in inganno e ci fa fare errori di accessibilità perché siamo più attenti a ciò che si vede piuttosto che al valore di quello che invece mettiamo nei contenuti è questo quindi il significato di mettere questo criterio di successo 1.3.1 cioè informazioni e correlazioni all'interno del discorso di adattabile perché le persone adattano i propri contenuti in base alle proprie esigenze come diceva prima Claudio fino a poco a poco tempo fa quasi tutti utilizzavamo ehm un dispositivo desktop quindi un computer fisso per andare in internet io mi ricordo anche con monitor più o meno standard 19 pollici chi era fortunato aveva il 21 questa modalità di accedere all'informazione è completamente esplosa ora abbiamo computer di ogni genere dispositivi mobile di ogni genere tablet e televisioni che più ne ha più ne metta quindi quello che noi pubblichiamo deve essere modificabile e deve essere adattabile all'esigenza degli utenti quindi quello quando pensiamo all'impaginazione pensiamo sempre facciamo già un errore primordiale diciamo così dobbiamo occuparci della semantica e cioè del significato e non soltanto dell'aspetto visivo nell'immagine correlata appunto a questo slide ho inserito un'iscrizione etrusca un po' anche per motivi sentimentali perché provengo dalle regioni etrusche ovviamente ma perché la lingua etrusca è una di quelle ancora non completamente diciamo così decifrate in realtà non è vero cioè l'alfabeto etrusco è anche decifrato quello che non abbiamo decifrato è la semantica dell'aspetto della lingua etrusca cioè non sappiamo come parlavano come utilizzassero i suoni perché abbiamo solo poche iscrizioni messe quella ci manca l'aspetto globale ci manca la semantica e per questo la consideriamo una lingua ancora sconosciuta e molto spesso purtroppo creiamo dei siti internet come se fossero etruschi cioè in una lingua sconosciuta non per la lingua ma per il valore semantico degli oggetti titoli elenchi tabelle menu intestazioni sono tutte cose che a cui diamo un aspetto visivo e non semantico strutturale di sin di significato quindi questa problematica è molto legata al concetto dei visual composer molto spesso quando in accessibilità si ascoltano questi termini visual composer visual designer sono concetti che stridono un po nel nostro mondo perché sto pensando sempre ad un unico canale canale sensoriale cioè quello visivo benissimo i visual composer aiutano le persone che creano i contenuti a crearli in una con facilità velocemente in maniera anche efficace ma molto spesso sono i primi responsabili della della inaccessibilità del dei contenuti che carichiamo in un sito internet e quindi dobbiamo stare molto attenti al fatto che quando ci presentano un content management system che sia il notissimo wordpress o anche il molto utilizzato nella pubblica amministrazione drupal o altri bisogna stare molto attenti che quello che ci viene inserito dentro abbia la capacità di creare contenuti che abbiano un valore semantico perché abbiano un significato e vedremo oggi che solamente con il criterio di successo 131 abbiamo di fronte delle considerazioni che ci portano a dire ok attenzione perché probabilmente in tutti questi anni abbiamo noi contribuito a fare cose inaccessibili piuttosto che magari dare la colpa al costruttore del sito internet e quindi attenzione a chi chi fa content management cioè chiunque si occupa di creare contenuti digitali non può prescindere da avere alcune competenze benvenga il visual composer benvenga la separazione delle professionalità nel senso io sono un esperto di contenuti e di content management non voglio sapere nulla di tecnicismi però è essenziale che chiunque crea i contenuti per il web conosca le basi con cui è costruito il web e mi riferisco soprattutto alle basi di html css e noi è anche qualcosa di javascript e di wire perché sono le infrastrutture che ci servono per creare contenuti accessibili non possiamo fare oggi verticalizzazioni su questi argomenti però attenzione è un rimando a future formazioni chi fa content management deve conoscere html non se ne può disinteressare perché è la struttura di base dei contenuti che bisogna rispettare quindi cosa ci insegna questo famoso criterio di successo 131 è uno di 50 quindi è chiaro che non possiamo andare avanti a fare formazione per ogni criterio di successo 50 slot e mi sembrano un po tanti ovviamente però concentriamoci come diceva claudio almeno sui primi 5 6 7 quelli che abbiamo trovato nel nostro monitoraggio di agit come fra i più violati ok quindi vedremo come in questo criterio di successo ci siano tanti insegnamenti che possiamo portare come bagaglio di informazione anche culturale non solo all'interno della creazione di un contenuto digitale web ma anche come diceva come comunque avvertiva claudio anche dentro ai contenuti che sono all'interno del nostro computer quindi contenuti non web quindi fogli documenti documenti fogli documenti digitali fogli di calcolo presentazioni allora prima considerazione le intestazioni qui purtroppo è una cosa che ricorre in accessibilità e sembra una cosa che tutti sanno cioè bisogna usare bene le intestazioni h1 h2 h3 fino ad h6 lo facciamo con superficialità infatti lato quasi totalità delle problematiche riscontrate l'accessibilità riguarda le intestazioni vuol dire che bisogna fare molta attenzione e vi ho portato proprio alcuni item fondamentali punto numero uno è importantissimo definire le intestazioni perché sono il primo punto di contatto che abbiamo utilizzato per la comprensione dei contenuti non è difficilissimo da capire quando compriamo un libro guardiamo prima il titolo quando compriamo un libro e vogliamo sapere di cosa parla lo apriamo e guardiamo i capitoli guardiamo l'indice non ci mettiamo a leggere tutte quante le pagine non leggiamo le 300 pagine di un libro per scoprire di cosa parlava ci appoggiamo a dei marcatori che sono il titolo principale il titolo dei paragrafi dei capitoli dei paragrafi e quello che c'è altra cosa importante un titolo rappresenta il contenuto che lo segue quindi ecco perché è sbagliato mettere di solito per esempio in una pagina un h1 poi un h2 poi un h3 e poi basta come se fossero una gerarchia bloccata lì non ha senso perché un h1 descrive tutto ciò che lo segue e quindi che cosa lo segue lo può seguire uno o più h2 se io ho una struttura che ha un solo h1 un solo h2 e un solo h3 va con sé che forse ho sbagliato perché non ho messo una struttura semantica coerente perché bastava probabilmente avere solamente un h1 non ha senso avere un albero in cui i cui rami sono solamente un livello ciascuno rappresentano l'elemento l'h1 è l'elemento primario ci deve essere una pagina non esiste una pagina senza un h1 ora qui tante volte se ne discute anche fra gli esperti ok qualche volta l'h1 non c'è inizia tutto con un h2 ok non mi metto a piangere lo so che può essere un errore marginale ma perché devo farlo se so già che è un errore quindi perché devo commettere un errore sapendo che sto sbagliando mettendo subito un h2 anziché un h1 quindi è ovvio non è non cade il mondo però ci deve essere un h1 rappresentano i titoli un alberatura della pagina web e non ci sono eccezioni non posso dire vabbè ma siccome è un'applicazione non è un sito internet è vero quindi non è proprio l'alberatura sono gli elementi no rappresentano un'alberatura quindi ogni elemento deve essere subordinato a quello che lo precede di conseguenza non ha senso avere il salto di intestazioni tipo o un h1 e poi l'h3 oppure o un h2 e poi l'h1 non ha senso non ha proprio un senso semantico è per questo che dobbiamo quindi strutturare le intestazioni proprio in questo modo se voi ora prendete tutte queste cose e andate a ricostruire a confrontare fare un mapping di quello che avete nei vostri siti internet e magari scoprete scoprite che almeno qualcuna di queste cose è stata violata vi devo dare un ultimo suggerimento nella home page molto spesso l'h1 è di difficile individuazione perché la home page molto spesso è un call è un è un puzzle di pezzi di sito che poi si si diciamo si si evolvono all'interno del sito stesso bene in home page l'h1 può essere anche una h1 nascosto o addirittura associato al logo che dice ok io sono sito comune x oppure insomma la mia organizzazione punto it ok quindi poi delle pagine interne il mio h1 diventa il titolo della della pagina che sto visualizzando attenzione cosa succede nei cms nei cms molto spesso le titolazioni sono bloccate ossia l'h1 lo decide il cms stesso non posso deciderlo io quindi bisogna impostare i cms in maniera corretta poi nel cms io posso utilizzare degli stili per simulare le intestazioni attenzione questo è un grosso errore per esempio se scopro che un titolo sembra un titolo ma ce l'ha creato un foglio di stile attraverso un css quello è un grave errore perché visivamente sembra un titolo ma invece semanticamente non è un h1 ecco perché chi fa content management deve conoscere l'esistenza di h1 anziché un css class h1 è importante sapere queste cose attenzione che nei cms ci possono essere sovrapposizioni per esempio il cms poi generarmi automaticamente un h1 e quindi è giusto che nel mio contenuto io possa utilizzare solo dall'h2 in poi quindi ci deve essere questo questa attenzione quindi contrapposizione o sovrapposizione ossia se ho già un h1 di default gestito dal cms devo stare attento a non mettere a mia volta un h1 supplementare dovrò a quel punto mette un h2 ok quindi bisogna fare attenzione a tutte queste cose quando si utilizzano i cms e l'elemento che dovete portare voi che magari vi occupate di tutti i contenuti verso i verso gli sviluppatori e portare indietro queste informazioni e guarda caro sviluppatore che il h1 lo voglio decidere io di volta in volta non devi darmelo tu come un default oppure nel mio cms non posso usare le intestazioni devi rendermi disponibili le intestazioni altra cosa che qualche volta si sbaglia è quello degli elenchi elenchi numerati puntati o di descrizione non hanno un valore casuale hanno un valore semantico preciso gli elenchi numerati che sono definiti sono descritti da numeri o lettere hanno un valore c'è la sequenza ha un valore vuol dire che se mette un elenco numerato vuol dire che al primo posto c'è la cosa più importante oppure la cosa primaria che devo fare al secondo c'è la secondaria terzo e terziaria infatti le mie slide hanno degli elenchi puntati non c'è una sequenza logica nei miei punti in l'ordine non è importante potevo anche invertirli per esempio in questo caso e sto parlando or di elenchi numerati puntati di descrizione attraverso un elenco puntato perché non è un elenco numerato potevo parlare prima degli elenchi di descrizione e non di quelli numerati poi chiaramente sono gli elenchi di descrizione che ve le ho messe nella slide perché poi le slide rimangono e per ricordarli che esistono sono molto comodi però non farei una verticalizzazione su questo tema per non perdere diciamo del tempo utile per parlare di queste cose negli elenchi attenzione non sovrascrivere mai le il modo in cui sono rappresentati nativamente se un elenco numerato è numerato non è se da css tolgo il numero e ci metto un'icona è chiaro che faccio un errore perché non li rendo più non li rendo più riconoscibili magari non gli importa nulla chiuso allo screen reader lettore di schermo perché tanto percepirà comunque che un elenco numerato ma chi percepisce visivamente dell'elenco perderà il senso del numero e quindi avrà perso un pezzo di semantica gli elenchi puntati spesso li vedo utilizzati per la costruzione di altre altri oggetti cioè delle card degli slider che sono costruiti attraverso elenchi puntati anche questa qualche volta è una pratica non consentita oppure si utilizzano dei simboli che simulano gli elenchi molto spesso si fa questo e non a caso gli editor di testi ultimamente sono diventati più intelligenti di creatori di testi e trasformano l'intenzione di creare un elenco puntato in un elenco puntato vero se io metto trattino e poi scrivo proprio da capo molto probabilmente il mio editor mi trasformerà semanticamente quella mia digitazione non semantica in un valore semantico però non sempre succede questo non sempre succede negli editor online in quelli che abbiamo per costruire siti internet e quindi fare molta attenzione affinché il trattino non sia solamente trattino per evitare poi che si perda il significato semantico dell'elenco puntato altra cosa l'uso di line break br per andare a capo il il comando che si attiva con shift invio rappresentano una interruzione di riga per esempio come nelle poesie delle poesie a fine riga si va a capo non inizia un nuovo paragrafo è una proprio una riga che va a capo ma non devono essere utilizzati per andare a capo l'uso improprio del br dall'impressione di righe spezzate che inter che percepite collettore di schermo danno delle delle impressioni sbagliate c'è al come dicono gli amici che utilizzo vettori di schermo in maniera diciamo primaria si hanno le presentazioni di spezzato o di buco che non mi fanno capire cosa c'è lì in mezzo cioè trovo una spezzatura ok ma cosa ci sarebbe stato là in mezzo se non si fosse stata la spezzatura c'è qualcosa che non capisco c'è un pulsante che non trovo danno quel senso di viso orientamento che non è necessaria non è necessario proprio perché ho usato un br in maniera impropria quindi attenzione anche a questo fatto qui altro elemento molto importante le tabelle molto spesso mi sento dire guarda le tabelle è vero che le tabelle non devono essere utilizzate perché sono inaccessibili no le tabelle devono essere utilizzate quando esprimono i dati in forma tabellare quindi se sto creando dei dati che hanno una effettiva struttura di tabella e quindi hanno intestazioni di riga di colonna esattamente come se fossimo su un foglio di excel su un foglio di calcolo quelli sono dati tabellari e vanno riprodotti in forma tabellare anche su internet molto spesso questa cosa è un po diciamo così manovrata concedere in questo termine perché le tabelle faticano ad essere responsive ma la tabella potrebbe anche non essere responsive oppure potrei permettere all'utente magari di rendi spostare il dispositivo da portrait all landscape quindi da verticale in orizzontale ma è importante che i dati in forma tabellare consentano di far percepire all'utente qual è la natura stessa del dato e quindi le tabelle aiutano gli utenti non sono inaccessibili con qualche volta si dice però bisogna stare attenti anche a come sono strutturate ecco perché bisogna concentrarci sul fatto che chi costruisce contenuti deve conoscere anche questi aspetti minimali quando è una tabella con il mio editor con il mio gms il mio visual composer devo stare attento che le righe di intestazione siano marcate con il tag th e non con td come una colonna normalissima perché solo se c'è una intestazione di riga o di colonna o entrambe ovviamente nelle tabelle così definite a doppia entrata solo se ho l'intestazione effettivamente segnata posso posso attivare delle notifiche ok posso solamente in quel modo definire bene per i miei utenti qual è la struttura semantica della tabella solo qui solo in quel modo posso dargli questa percezione se no sto creando un contenuto che non ha struttura semantica altra cosa se voglio utilizzare le tabelle al solo scopo di impaginare per esempio testo a due colonne per esempio mettere un box qui uno qui uno qui è sbagliato attenzione non annidare le tabelle tabella di tabella sono dei mostri altra cosa non fare unione di celle o di righe anche qui creiamo dei mostri non ci addentriamo in questo però sappiate che quelle pratiche rendono inaccessibili o comunque potenzialmente inaccessibili le nostre tabelle altra cosa le etichette nei campi di input molti cms e permettono la costruzione dei campi di input quindi di creare le tabelle di creare proprio dei moduli con cui gli utenti poi possono interagire attenzione l'etichetta deve essere sempre correlata al campo a cui è associata quindi quando vedrò il mio bel codice e dovrò avere queste capacità devo vedere che ci sia l'attributo for associato alla mia etichetta solo in questo modo posso capire se l'etichetta è associata al campo stesso in realtà ho anche un altro modo più sperimentale cioè quando faccio clic con il mouse devo vedere che se clicco l'etichetta il focus si deve accendere nel campo di input se questo non succede la mia etichetta non è associata e quindi ho creato una importante inaccessibilità e quindi icms possono permettere di costruire di costruire i moduli di interazione con l'utente bisogna chiedere a chi ha costruito quelle quelle funzionalità che tutto sia accessibile cioè che tutte le etichette possono essere correlate ai campi di input è chiaro che questo argomento è molto esteso e è molto complesso perché i campi di input possono avere anche delle caratteristiche molto complesse e diciamo chiunque costruisce campi di input sa quanto è complesso l'argomento fermiamoci alle cose semplici le cose semplici sono almeno nome cognome indirizzo che sia effettivamente associato a un campo di input corretto quindi altra cosa rispetto ai moduli che invece riguarda il content management quando devo dare delle informazioni nei moduli che devo dare prima che inizia il modulo e non alla fine per esempio se devo mettere che c'è un campo obbligatorio non me lo devi dire quando il modulo già riempito tutto ma me lo devi dire prima che inizio a compilare il modulo se no chiaramente il tutto diventa non accessibile così come i campi obbligatori devono essere marcati semanticamente non soltanto dal colore asterisco cosa significa asterisco devono avere un valore semantico questo magari potete chiederlo al ritroso agli sviluppatori attenzione i campi obbligatori devono avere un valore semantico collegamenti espliciti ogni volta che faccio un collegamento quindi un link devo accertarmi che il collegamento cioè il tag a la cora deve avere l'attributo href e non essere gestito dal javascript ecco perché dicevo anche chi fa contenuti deve avere una minima concezione di questi argomenti perché sennò rischio di fare collegamenti non accessibili ok quindi attenzione anche alla esplicitazione di quello che è il collegamento delle pagine capite che stiamo parlando di cose veramente basilari perché il collegamento è l'essenza di internet mi ricordo quando è nato internet perché i capelli bianchi servono anche a questo si chiamavano ipertesto collegamenti per testuali perché sono proprio la essenza di quello di cui stiamo parlando quindi è importante definire bene che un link deve essere un link e non solamente un qualcosa costruito con artificio attraverso javascript quindi arriviamo alle nostre conclusioni la conclusione che che possiamo trarre è che solo da un criterio di successo abbiamo capito una serie di cose che sono veramente molto importanti e sono effettivamente un catch all come dicono molti colleghi cioè dentro questo criterio successo ricadono una moltitudine di di cose poi siccome abbiamo deciso per questo ciclo di seminari è dedicata di più alle persone che fanno content management ho evitato di portare qua dentro degli esempi che sono al di fuori della con del contesto di cui stiamo parlando e sono tutte diciamo gli attributi che si aggiungono ai contenuti attraverso per esempio guai aria o attraverso altra semantica più complessa quindi è vero che con un solo criterio di successo abbiamo la possibilità di percepire molte cose di portarci a casa un bagaglio di informazioni importanti ma link ma la informazione più importante a mio avviso che che è legata a questo criterio è proprio anche l'essenza e cioè non esistono presentazioni quindi criteri e quindi siti internet immutabili quindi quando pensiamo un contenuto come si fa per esempio nel designer ormai da tempo che quando si costruisce il contenuto si fa per desktop per desktop grandi per mobile per tablet si costruiscono per vari scenari dobbiamo pensare ai contenuti sempre in questa ottica nulla è immutabile lo mettiamo digitale proprio per questo motivo perché ognuno se lo prende e se lo gestisce come vuole con il proprio dispositivo con le proprie capacità con la propria lingua con le proprie tecnologie assistive avete percepito ora che io non ho mai parlato di persone con disabilità l'avevo introdotto prima claudio non ci interessa nulla non siamo esperti di disabilità noi siamo esperti di contenuti di internet o nel mio caso di accessibilità dobbiamo occuparci di applicare quelle che sono le regole di accessibilità perché se qualcuno le ha pensate in processi fra l'altro molto lunghi e complessi che coinvolgono veramente molte persone esperti di dominio se qualcuno le ha pensate e sono finiti in una legge anche alla fine ci sarà un motivo quindi non bisogna mai dimenticare questo percorso contenuti contenuti che sono a disposizione delle persone che ne fanno quello che vogliono quindi abbiamo finito questo breve spero significativo percorso se claudio mi raggiunge ora in non so se anche se ecco anche già luca ecco mi aspettavo con ansia per passare grazie allora come avete visto ci sono state veramente tantissime domande le ritrovate nell'area riservata adesso potrei proporvele io ma forse è più facile se inizia a rispondere claudio visto che ha avuto il tempo per poterle leggere mentre arrivavano claudio dimmi tu come volete in procedere perfetto allora sì allora abbiamo ancora un quarto d'ora quindi dovremmo avere il tempo per rispondere a gran parte delle domande prego ok sono tante quindi cerco di essere estremamente sintetico dunque quali strumenti avete utilizzato per verificare l'accessibilità strumenti che possono essere facilmente reperibili online installabili sui browser abbiamo diciamo ecco noi abbiamo utilizzato un un estensione di chrome che è relativo a uno strumento che si chiama site improve accessibili di checker e abbiamo mantenuto sempre questo strumento nei vari siti la cosa importante era soprattutto per quanto riguardava questa verifica massiva dei dei siti web di 1300 siti web a mano perché poi questi siti web li abbiamo fatti li abbiamo verificati a mano cioè con strumenti semiautomatici ma comunque con una verifica fatta da persone che poi dopo hanno abbiamo strutturato dei dei dati delle dei file excel insomma per poterli poi per poterli poi inserire questi dati avere un resoconto finale ci sono validazioni strumenti di validazione online si c'è il validator v3 si delle delle v3 si c'è ci sono anche altri strumenti come mauve ecco nessuno di questi strumenti ecco non vi aspettate da questi strumenti semiautomatici uno stesso risultato cioè con fabrizio ce lo diciamo spesso insomma questi strumenti forniscono un primo aiuto una prima verifica ma non daranno mai gli stessi risultati e non saranno mai al cento per cento perfettamente attendibili c'è sempre poi bisogno di una verifica di competenza della persona che va a fare la l'analisi del sito poi altre domande quali sono le verifiche le verifiche manuali da fare beh la verifica nel loro complesso sono sostanzialmente quelle indicate nella tra l'altro anche nell'allegato o due delle linee guida sulla sugli strumenti ICT e anche poi insomma possono essere utilizzate più in generale le indicazioni delle web content accessibility guidelines 2.1 per verificare tutti quanti i punti di controllo abbiamo utilizzato appunto come si diceva software persone abbiamo utilizzato sia persone che software per un'analisi semiautomatica quindi prima un primo diciamo una prima analisi semiautomatica dell'analisi della sintassi del codice della pagina e poi comunque una verifica della persona che ha confermato in base alle proprie competenze ovviamente quelle che sono le le caratteristiche della degli errori di pagina poi ci sono per quanto riguarda gli obiettivi di accessibilità deve essere nominato l' rtd perché se no non si accede alla all'applicazione l' rtd è una cosa ormai insomma che che deve essere stata nominata da tempo in quanto abbondantemente ormai sono passati è passato qualche anno insomma da quando è stata creata la figura appunto della dell' rtd dal punto di vista proprio legale il poi dunque dobbiamo aggiornare le nostre pagine sull'accessibilità per nuovi obiettivi ma per quelle degli anni precedenti rimane attivo il vecchio sito si rimane attivo il vecchio sito per la consultazione no rimane attivo il vecchio link il vecchio link è ancora possibile vederlo il sito con cui fare il le nuove dichiarazioni di accessibilità e gli obiettivi di accessibilità è quello presente su form.agil.gov.it chi deve fare gli obiettivi e la dichiarazione allora gli obiettivi sono molto spesso delle delle questioni di carattere anche organizzativo quindi è certamente l'amministrazione a dover prendersi in carico la predisposizione degli obiettivi di accessibilità e il la dichiarazione di accessibilità è una è una responsabilità dell'amministrazione e l'amministrazione che risponde di quello che è il livello di accessibilità certamente può farsi aiutare per questioni tecniche nell'analisi dei nell'analisi della delle pagine da persone competenti che dovrebbero essere e con questi seminari noi cerchiamo di far sì che ci avvenga persone competenti che dovrebbero essere all'interno dell'amministrazione stessa e non soltanto relegare tutto questo al fornitore esterno perché poi per una dichiarazione di accessibilità fatta dal fornitore esterno che poi ha fatto anche il sito web è chiaro che potrebbe esserci qualche problema poi la dichiarazione di accessibilità deve essere pubblicata entro il 23 settembre e confermata o aggiornata comunque entro il 23 settembre di ogni anno ok lascio la parola a fabrizio per quanto riguarda gli altri quesiti veramente tanti cercherò di non sovrappormi a quelli di claudio allora il tag a come ancora per link interni link esterni quali alternative nessuna punto ok allora poi quando utilizzare guai aria domanda troppo complessa non si può rispondere a in questo momento ovviamente ogni pagina un solo h1 non è espressamente vietato da qualche parte che possono esistere due h1 se in una pagina effettivamente ci sono due sezioni completamente diverse io ritengo che sia una inutilità e credo anche gli esperti i colleghi esperti di seo direbbero che è una completa inutilità dunque poi il salto delle intersezioni da h1 h3 è un errore accessibilità o una buona pratica dunque nelle vcad nella parte normativa non c'è scritto espressamente che è vietato però nelle in diciamo delle understanding dei documenti a corre la ma correlati c'è chiaramente scritto che devono essere annidati quindi diciamo che non è esattamente né una buona pratica e né una inaccessibilità io ritengo una cosa completamente illogica quindi proprio non la farei come ho detto durante il seminario quindi più h1 abbiamo già detto in bootstrap italia ci sono degli elementi che sono in svg al posto dei puntini non ricordo la casistica credo che però sia una sovrascrittura nel css non mi ricordo bene andrò a vedere questa cosa qua su bootstrap italia che fra l'altro è in lavorazione dunque il br come deve essere utilizzato come l'ho già detto durante la è lo spezzamento di riga come dentro una poesia quando non è un vero paragrafo tutti gli altri casi è sbagliato quindi per lasciare per esempio uno spazio fra un paragrafo e l'altro per esempio split fra c'è la unione al visto adesso non mi ricordo dove l'ho vista ma l'ho vista prima non ho detto che è vietato unire celle o righe ho detto che è una prassi che va evitata il più possibile perché rende complicata la lettura delle tabelle e dunque poi vediamo che altre cose confesso la mia totale incapacità nella lettura estensiva quindi vado velocemente a vedere allora dunque l'open data può essere considerato un'alternativa accessibile a una tabella argomenti completamente diversi che non c'entra nulla open data è un concetto diciamo legato al formato dei dati una tabella è una tabella invece semantica html quindi non diciamo non c'entra nulla come concetto dunque inseriamo tabella gli orari di apertura gli uffici di diversi giorni da settimana in colonia divisi in ma allora come strutturare le tabelle è chiaramente una richiederebbe un seminario per conto suo perché chiaramente l'argomento tabelle è un argomento molto complesso e il consiglio che posso darvi è sempre quello cioè limitare al massimo le strutture bisogna fare in modo che tutto sia il più semplice possibile perché quando abbiamo una struttura semplice e ben comprensibile stiamo facendo un aiuto dando un aiuto a tutte le persone anche se strutture complesse possono essere anche trasformate e farle diventare accessibili in ogni caso la complessità non va mai d'accordo con accessibilità città ogni tanto ci citano delle applicazioni notissime di grandi organizzazioni che dicono sì ok è un po complicato però fondamentalmente accessibile sia magari eppure vero ma che me ne faccio di una roba che è potenzialmente accessibile ma che alla fine diventa talmente complessa che non riesco neanche utilizzare magari bypass oppure la legge di accessibilità però sto facendo un servizio che è inutilizzabile da cittadini per questo con claudio da tanto tempo abbiamo tra di uno degli attori di questa cosa con insieme a me da altre persone abbiamo ci stiamo cercando di fondere i concetti di accessibilità usabilità user experience perché nella verticalizzazione non è il suo ma c'è una macro idea generale che le cose devono essere fatte per bene in senso generale non so se ho risposto la maggior parte delle domande se volete aiutarmi anche non so su claudio ha visto delle cose a cui non ho risposto o se Gianluca vuoi darci qualche input visto qualcosa che mi è sfuggito ecco magari ho visto degli esempi di slider gestiti come elenchi puntati chiaramente troppo complicato da rispondere adesso così in quattro parole ma rimandato ad un chiaramente ad altra l'altra cosa chiaramente tutte le domande le ho saltate tutte quelle su guai aria perché un argomento troppo complesso da devi da da affrontare in un seminario come questo ovviamente anche se chiaramente è un argomento molto importante perché nella tecnologia concedetemi il termine moderna si fa ridere di questi tempi diciamo così moderna però nelle tecnologie che utilizziamo oggi per fare siti internet applicazioni bisogna fare un uso molto massiccio di guai aria perché abbiamo talmente tante dinamicità che non possono essere gestite attraverso la semantica semplice di html e quindi è un argomento che magari possiamo già luca prendere come spunto per fare futuri seminari su alcune verticalizzazioni insomma molto molto importanti giustamente le domande ci sono molte perché è un argomento che meriterebbe ben altre considerazioni possiamo avviarci alle conclusioni comunque tranquillizzo i nostri partecipanti che abbiamo raccolto tutte le domande le analizzeremo al termine del webinar per verificare intanto se è opportuno dare anche una risposta come vi anticipavo direttamente su eventi ipa oppure in apertura del prossimo webinar e poi se ci sono degli spunti utili anche per l'organizzazione dei successivi eventi che vi ricordo si svolgeranno ogni quattro settimane sempre il mercoledì dalle 12 alle tredici e trenta quindi se lascio direttamente a voi decidere se volete rispondere a qualche ulteriore domanda altrimenti siamo perfettamente ignorati possiamo avviarci alla conclusione direi che possiamo mantenere questi i tempi che ci erano dati e io ringrazio voi per gli interventi molto chiari utilissimo un intervento di claudia all'inizio per contestualizzare il tema e poi siamo entrati molto nello specifico anche se ovviamente alcuni argomenti non è possibile affrontarli approfondirli in in questo webinar che vi ricordo è soltanto introduttivo di un ciclo di tre eventi eh qualche ulteriore informazione di servizio prima di chiuderla la sessione la registrazione i materiali saranno disponibili già a partire da oggi pomeriggio quindi se volete rivedere l'intervento segnalarla a qualche collega è liberamente disponibile su eventi ipa quindi non è necessaria la regia dell'iscrizione al webinar per le presenze per gli attestati vi ricordo verranno rilasciati soltanto a termine del ciclo di webinar quindi vi invitiamo a non intasare il nostro il desk con queste richieste perché sicuramente la risposta è quella standard dovrete aspettare il terzo webinar quello previsto ad aprile per le presenze e relativi attestati bene allora io vedo numerosi ringraziamenti complimenti grazie molto interessante perfetto devo dire che è stato un utilissimo eh a mio avviso eh webinar per questo per introdurre questo argomento e niente ringrazio tutti per la partecipazione ringrazio molto i relatori per la loro disponibilità e chiarezza e a questo punto vi sta l'ora direi di chiudere la sessione e anche di augurarvi buon pranzo e buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti grazie 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 grazie